Questo weekend si è chiuso il trittico per quanto riguarda la MotoGP, tre settimane consecutive infatti si sono svolte per tre Gran Premi diversi, Gugello, Germania e oggi Assen hanno di fatto concluso la prima parte della stagione. Si va dunque alla pausa estiva con, ancora una volta, Francesco Bagnaia, vincitore e leader del Mondiale MotoGP, al termine comunque di alcune gare interessanti che hanno lasciato degli spunti interessanti. A volte per quanto riguarda eccessi di gesti in pista, alcune volte di mancate penalizzazioni delle direzioni di gara in altre categorie e poi su perde di podio fatte veramente di millimetri. Ma andiamo con ordine e partiamo però, come sempre, dalla fine per quanto riguarda la gara che conta davvero, quella della domenica, ovvero con la vittoria di Francesco Bagnaia. Ancora una volta il pilota piemontese si conferma leader e miglior pilota evidentemente di questa classe regina per quanto riguarda il MotoMondiale. Non è una gara dominata quella, va detto, di Francesco Bagnaia, ma è una gara effettivamente fatta di passo, sfruttando anche il fatto che Brad Binder, uno dei piloti che si è giocato la vittoria col piemontese, aveva effettuato una scelta di gomme differente rispetto agli altri. La maggioranza dei piloti di test aveva optato per la gomma media al posteriore, il sudafricano Brad Binder invece per la gomma morbida, gomma morbida che è andata via via calando per poi appunto far lottare il sudafricano in lotta per il podio. Prima con Bezzecchi che supererà evidentemente anche Brad Binder e poi con Alessio Spargarò e Orge Martin evidentemente in una lotta che appunto poi è stata divertente per le posizioni che andavano al di là della prima e della seconda. Perché è vero che il distacco tra Bagnaia e Bezzecchi non era propriamente del clamoroso, ma evidentemente non ho mai avuto la sensazione che Bezzecchi potesse averla meglio di Francesco Bagnaia. Invece come è avvenuto al sabato dove appunto il 72 ha battuto e anche in maniera molto importante il pilota piemontese Francesco Bagnaia che dunque allunga i suoi diretti avversari che sono appunto Binder, Bezzecchi e Martin in ordine inverso di classifica perché sappiamo come Martin sia secondo, Bezzecchi terzo e Binder quarto in classifica generale. Alla fine c'è comunque il thriller per quanto riguarda la gara di Assen al termine della competizione dopo i 26 giri, sembra che il podio sia Bagnaia primo, Bezzecchi secondo e Binder terzo, in realtà c'è una sorpresa perché in terza posizione arriva Alessio Spargarò che fa una gara clamorosa perché al primo giro il pilota spagnolo di fatto perde una componente della sua moto o meglio gli scipiega una parte dell'ala che dà molto aiuto aerodinamico anche in questo MotoGP. La parte destra per la precisione continua a penzolare letteralmente dal primo al 26esimo giro e quindi aveva un po' di difficoltà nel vedere Alessio Spargarò curvare bene nelle curve verso sinistra ovviamente per compensazione e di conseguenza un pezzo aerodinamico importante in meno poteva compromettere la gara di Alessio Spargarò che invece è rimasto lì e sfrutta anche un errore di Brett Binder, un errore che avviene all'ultimo giro, lo vediamo in questo frame direttamente dal sito di Sky Sport, un Binder che oltrepassa pur di poco i limiti della pista e per il regolamento se viene fatto questo gesto all'ultimo giro bisogna cedere automaticamente una posizione dunque di conseguenza Binder scala quarto e Alessio Spargarò sale in terza posizione. Avverrà una cosa molto simile va detto in realtà in un'altra categoria ma ne parleremo evidentemente nello spazio dedicato. Tutto questo invece per dire che Francesco Bagnaia vince e allunga in testa alla classifica del Mondiale, è la quarta vittoria in campionato per Francesco Bagnaia per il quale suona ancora una volta il canto degli italiani e sono 194 punti di vantaggio sul suo più diretto inseguitore ovvero Orge Martin che ha fatto un weekend va detto abbastanza deludente. Secondo appunto è Marco Bezzecchi che comunque con la vittoria della gara sprint del sabato e la seconda posizione della gara vera arriva a meno uno da Martin e appunto di fatto è una sorta di duello più Bezzecchi che potrebbe essere la wildcard, il jolly, probabilmente l'ago della bilancia del campionato a meno che non sia in grado dopo la pausa estiva di arrivare proprio a avere risultati talmente di peso da essere considerato un vero e proprio contender al titolo del mondo. Il podio appunto lo completa Alecce Spargarò che ha raccolto più sfortune che altro, va detto che Alecce Spargarò un po' è stato infortunato, un pochino l'apriglia è competitiva anziché no sicuramente molto meno rispetto all'anno scorso, terza posizione importantissima in questo caso per il pilota spagnolo che comunque si issa in ottava posizione nella classifica del campionato. In una gara, va detto, quella di Assen che non ha regalato talmente emozioni in pista che ci hanno pensato in realtà i piloti fuori dalla pista, in parte perché come vediamo dalla classifica di Wikipedia d'inglese anche qui è stata un po' un'ecatombe come Aleman dove sono arrivate soltanto 12 in moto al traguardo, poi andremo a analizzare tutte le posizioni, un pochino perché ancora una volta un pilota ha fatto molto parlare di sé ed è un pilota che ancora una volta non ha corso. Parliamo di Marc Marquez che dopo aver saltato la gara della Germania per le troppe cadute fa la stessa cosa per quanto riguarda la gara di Olanda e l'episodio in questo caso coinvolge anche un pilota della Ducati ovvero Enea Bastianini. Il contesto è questo, siamo nella prima qualificazione che ammette i primi due verso la seconda qualificazione, Bastianini abbordisce il giro perché evidentemente ha sbagliato, Marquez che stava seguendo Bastianini in traiettoria in qualificazione si distrae, segue lo stesso Bastianini che è andato fuori traiettoria e lo tampona in un modo abbastanza inspiegabile provocando questa caduta che vedete. Marquez appunto onde evitare di continuare a farsi del male come succede praticamente a ogni gara ha deciso ancora una volta di ritirarsi ma ovviamente non è la prima volta che succede in questa stagione. Figuriamoci al giorno della carriera ho perso il conto francamente delle cadute di Marc Marquez nel corso di questa stagione soprattutto per quanto riguarda le sessioni di qualificazione senza contare quelle in gara. E evidentemente è qualcosa che è reiterato in un modo abbastanza inspiegabile mi verrebbe da dire, d'accordo che Marquez è un pilota che cerca sempre il limite anche oltre all'immaginabile nonostante questa onda sia un cancello, una moto assolutamente non competitiva ma rischia di continuare a farsi male per motivi più o meno inspiegabili oltre che cercare il limite esageratamente indipendentemente dal fatto che uno sia da solo con altri piloti e in qualunque sessione mi lascia alquanto perplesso. Questa caduta è abbastanza ridicola da certi punti di vista non appunto per le conseguenze del pilota perché per fortuna non si è fatto niente ma perché ha tamponato un pilota che stava abortendo il giro e anche Marquez si è distratto nel seguire un pilota che stava cercando evidentemente di qualificarsi nella seconda parte della qualificazione. Annetto che Vastanini ancora oggi non è propriamente competitivo per via della sua convalescenza. Marquez totalizza 15 punti di fatto in stagione e sono punti soltanto dovuti alle gare sprint perché altrimenti parleremo di un ricco zero. paradossalmente Raúl Fernández ultimo dei piloti regolari sarebbe davanti a questo Marquez che è l'ombra di se stesso non come talento puro perché quello non si discute mai ma come comportamento in pista ha reiterato forse alcuni comportamenti delle volte scorse. sappiamo che Marquez è uno che cerca sempre il limite ma qui sta esagerando veramente troppo però insomma questa cosa deve assolutamente far riflettere e vedremo se la pausa estiva porterà consiglio al pluricampione spagnolo. tornando invece alla gara per quanto riguarda la domenica ad Assen abbiamo una quarta posizione di Brad Binder che in realtà è un po' beffato perché anche in gara sprint e nel lotta per il podio ma viene anche lì un po' penalizzato in questo caso per colpi sue e finisce quarto ma era a lotta per il podio anche per la gara sprint ma comunque Brinder è comunque una buona realtà di questo campionato dei prototipi. quinta posizione per quanto riguarda la gara di Assen è per Orge Martin e lo dico subito secondo me Orge Martin è la delusione del giorno di questa gara di Assen se il rider del giorno secondo me lo si può dare ad Alessis Park Roper che è arrivato terzo Martin dopo aver fatto una gara clamorosa la scorsa settimana in Germania poteva e doveva fare di più con questo team Pramac che non può avere delle gare così altalenanti perché a volte come in Germania al Mugello competitivi in modo incredibile qui un team da metà classifica Martin è arrivato e veramente quinto sì ma è arrivato con una grandiosa rimonta segno che Martin è veramente portato ed è un talento però delusione del giorno secondo me per questa gara di Assen per quanto riguarda Martin Hector. Sesto è Alex Marquez che francamente continua a farmi ricredere è un pilota su cui lo dico candidamente non ci ha riscolmesso un centesimo lo detto anche nella preparazione nella presentazione del modo mondiale 2023 e invece con il team Grisini sta avendo una solida realtà quindi diamo ad Alex Marquez quello che è di Alex Marquez tanta roba il pilota fratello di Mark che ovviamente sappiamo che non ha corso per ovvi motivi. Settimo è Luca Marini che comunque conferma una solita top 10 con la Ducati del team Muni VR46. Ottavo è Takahaki Nakagami che nonostante un long lap penalty combina la miglior prestazione per quanto riguarda la Honda che qui correva praticamente con quelli che rimanevano perché Marquez non c'era. Mir e Rins sono infortunati li hanno sostituiti con Bradl e Iker Lecona però Nakagami alla fine è l'unica speranza della moto giapponese. Nonna posizione per quanto riguarda la gara è Franco Morbidelli che sfrutta le cadute di piloti che sono venuti davanti che hanno di altra classifica vedi per esempio Vignales, Miller, Quartarosa, Arco e compagnia bella. La decima posizione invece per quanto riguarda la gara è quella di Augusto Fernandez Guerra stesso discorso di qui sopra. Tutti gli altri piloti che sono arrivati al traguardo arriveranno in zona punti a cominciare da Lorenzo Salvadori Wildcard terzo pilota Aprilia e comunque con uno dei migliori risultati in carriera in MotoGP e non è male comunque sfruttando il fatto delle cadute là davanti. Il dodicesimo è Raul Fernandez battuto da quello che dice Salvadori di qui sopra e questo non è proprio bellissimo per un pilota regolare chiude la classifica per quanto riguarda evidentemente la gara di Assen-Stefan Bradl tredicesimo con Jonas Folger quattordicesimo punti per il pilota della Gas Gas. Bagnaia sembra comunque indirizzato alla sosta estiva per la vittoria del mondiale. Il vantaggio non è rassicurante perché ripeto sono passate solo poche gare il bello deve ancora venire nella seconda parte certo che comunque quasi 40 punti rischia di essere un margine che Bagnaia deve e può gestire nel corso della stagione. Sono paradossalmente più equilibrati i mondiali delle categorie inferiori a cominciare dalla Moto2 che vede una prima vittoria in carriera perché se per Francesco Bagnaia ha suonato il canto degli italiani suona per la prima volta God Save the King. Per Jake Dixon pilota che ha avuto un passato in Supersport e che deteneva al momento il record della Moto2 per podi senza vittorie. Eravamo a otto con otto terzi posti senza vittorie e questo è il nono podio della carriera ed è la vittoria con un secondo dettaglio di vantaggio su Ayo Gura. E in terza posizione Pedro Acosta di cui però dobbiamo parlare perché Acosta accorcia in classifica rispetto all'interno del mondiale ovvero Tony Arbolino che finisce mestamente settimo ma ad Acosta in realtà sarebbero stati dovuti aggiungere altri tre secondi di penalizzazione. Questo perché viene combinato un long lap penalty, un giro lungo di penalità a Pedro Acosta che da questa immagine comunque non lo effettua molto bene. Anzi l'effetto in maniera orrenda si vede chiaramente dal frame del senso di Sky Sport che le due ruote sono oltre la riga bianca del giro lungo di penalità. Il regolamento vorrebbe che se una moto oltrepassa anche con una ruota la riga bianca del giro di penalità allora dovrebbe evidentemente rifarlo. Quindi vuol dire perdere ulteriori secondi e quindi arretrare in classifica. La direzione gara però sembra quella della Formula 1 in questo caso e fa finta di non vedere. E ad Acosta non viene sanzionato con un secondo giro di penalità. Al contrario tutto regolare e di conseguenza terza posizione per il numero 37 che dunque accorcia in classifica rispetto a Tony Arbolino. Peraltro soffiando il po' di involata a Ferminal de Guerre sulle speed up avessimo tolto altri tre secondi indicativi ad Acosta avremmo avuto una sesta posizione in realtà quinta perché Anuncio Lopez era nove secondi. Comunque di certo non dei punti così pesanti in ottica mondiale perché adesso il distacco tra Tony Arbolino primo e Pedro Acosta secondo è appunto soltanto di otto punti in un mondiale assolutamente combattuto che ovviamente riprenderà a Silverstone nella pausa estiva. Riprenderà anche a Silverstone dopo la pausa estiva la Moto 3. Una Moto 3 che di fatto anche qui ha un mondiale riaperto a un weekend di Austin che nelle categorie inferiori ha riaperto tante cose. Il leader del mondiale Daniele Olgado non solo parte ultimo in qualificazione ma si stende di fatto al giro uno e di fatto collezione un pesante zero. Oro colato per Kame Masia il leader evidentemente di quelli rimasti e di quello che doveva riscattarsi e massimizzare la caduta di Olgado e infatti così fa prima posizione e marcia reale per il pilota spagnolo. 109 punti dunque per Masia meno 16 rispetto a Daniele Olgado ne approfitta anche a Yungu Sasaki che era un altro dei diretti inseguitori e va a quota 99 in questa seconda posizione. Peraltro per Sasaki è il quarto podio consecutivo anche qui in rimonta e terzo è Gian Onku o meglio scusatemi Denis Onju il fratello gemello di Gian che dopo aver vinto in Germania appunto si conferma a podio in una bagarre clamorosa l'ultimo giro che ha visto coinvolti 10 piloti che alla fine vedono due italiani fuori dal podio. Il primo è Stefano Nepa che finisce decimo e invece il secondo è Romano Fenati che dopo aver fatto delle gare orrende after the music ad Assen si riscatta in qualche modo. Era addirittura nelle prime posizioni e poteva forse meritarsi il podio insieme a Stefano Nepa invece finisce soltanto ottavo in un mondiale a Moto3 che comunque vede tanti piloti coinvolti ce ne sono ben di fatto 5 nel giro di poco più di 20 punti che è di fatto l'equivalente di una vittoria in MotoGP e quindi attenzione perché Moto3 e Moto2 sono evidentemente in lotta MotoGP probabilmente un po' meno e in lotta anche la MotoE. Una MotoE che ha corso evidentemente ancora una volta come la MotoGP la Moto2 e la Moto3 nel trittico e ad Assen vede ancora una volta Matteo Ferrari protagonista perché due vittorie consecutive per il pilota Romagnolo confezionano 10 punti di riduzione del margine rispetto al primo della classifica ovvero Cordy Torres che dunque fa due podi due secondi posti ma adesso il distacco anche qui è di 8 punti 144 per Jordy Torres 136 per Matteo Ferrari per il quale sono due volte il canto degli italiani. Due gare in MotoE il primo podio viene completato da Randy Krummenacher che bissa dunque il podio di Le Mans gara 1 gara 2 invece viene completato da Mattia Casadei che ha dovuto fare una gara di rimonta sia in gara 1 che in gara 2 perché è stato penalizzato dopo la prima qualificazione ha dovuto partire dalla decima posizione anziché dalla prima che avrebbe evidentemente cambiato un po' di carta in tavola comunque è terzo podio in stagione per quanto riguarda il pilota Romagnolo. Solite due parentesi per quanto riguarda la MotoE Maria Herrera diciannovesima meglio diciottesima ultima in gara 1 e a punti in gara 2 e quindicesima altra parentesi Luca Salvadori purtroppo secondo weekend consecutivo per il numero 23 fuori dai punti sedicesimo è ritirato come tutte e due le Pramac perché anche Tito Rabatte si è ritirato dopo una buonissima gara 1 per quanto riguarda Assen e il team Pramac. Questo dunque il racing podcast per quanto riguarda la gara di Assen che chiude dunque le norme parentesi che abbiamo avuto sul mio canale per quanto riguarda la MotoGP torneranno presto anche i podcast per quanto riguarda la Formula 1 che va detto è un campionato orrendo dove vince soltanto una macchina e di conseguenza anche per quello non ne ho parlato ci sarà anche la Superbike che correrà a Donington torneremo anche poi con gli appuntamenti con il baseball e si spera in futuro anche con il kart insomma il periodo estivo è molto importante per il mio canale dunque state sintonizzati con il racing podcast e gli altri video sul canale. Il saluto da parte di Matthew Torquard ci vediamo al prossimo video.